Buongiorno, io sono Albi e anche questa sera come ieri faremo una piccola stream con Alato, Lego e Ambu direttamente dal Gamescom a Cologna in Germania e mi ha anticipato Alato con un sms che questa sera si parlerà di Black Ops 2, Crisis 3 e Sleeping Dog Alato mi ha detto inizio alle 21.30 ma io ci credo poco, comunque ci vediamo sul canale di Twitch, il link è qua in descrizione speriamo di partire entro le 10, comunque ci sarà la chat, vi aggiorneremo, vi terremo aggiornati e ci vediamo lì tra poco, ciao ciao ciao